È di bronzo il trenino italiano nella prova dell'inseguimento a squadre mondiali su pista che si stanno svolgendo alla Omnisport Arena di Appeldorn nel Gerdeland olandese. Gli azzurri con il nostro Filippo Ganna bissano il risultato di Hong Kong 2017, migliorando però i tempi, il risultato importante che sa di crescita verso i giochi di Tokyo 2020. In entrambe le giornate di gara il commissario tecnico Marco Villa ha scelto insieme a Ganna, il compagno di squadra del Vignonese alla UAE Mireiz Simone Consonni, Francesco Lamon e Lian Bertazzo a formare il quartetto. Nelle qualificazioni di mercoledì gli azzurri hanno staccato un ottimo 3-26-427, secondo miglior tempo delle qualificazioni, dietro alla Gran Bretagna favoritissima. In semifinale poi i quattro moschettieri azzurri hanno affrontato la Danimarca terza al primo turno. L'Italia, come da tabella parte piano, ma sempre da tabella, recupera metro su metro lo svantaggio iniziale. Va davanti all'ultimo giro di poco e pare poter chiudere da vincente, ma sono proprio gli avversari, con una tornata conclusiva davvero a tutta a garantirsi la finale contro i britannici che hanno facilmente battuto la Germania. Per l'Italia un 3-54-8-84 che ritocca il primato italiano. La finalina con i tedeschi, tutto sommato, non ha storia. Ganna tira forte sino a quando si lascia sfilare negli ultimi giri, anche in questo caso in maniera assolutamente prevista, e l'Italia va a chiudere in 3-54-606, ennesima miglior prestazione italiana della specialità. Dunque subito podio con vista sulla prova individuale di questa sera, che il Vignonese corre presentando l'oro del 2016 e l'argento del 2017. Un buon biglietto da visita.